e tutti gli amici o conoscenti che stanno vedendo. L'altra cosa, vedo che ci sono ancora persone che non hanno mai chiamato. Fallo, fallo perché fa bene a te, fallo perché dimostri che hai il Signore. E finora quelli che ho potuto sentire mi hanno detto che sono stati felici di chiamare, ho sentito qualcuno che addirittura sta cambiando nell'approcciarsi all'altro perché era bloccato, era rigido, non sapeva come pensare. Siccome è qualcosa che fa tutta la Chiesa, è stato ordinato dal pastore, fallo in modo che possiamo un attimino tenere presenti e arrivare a persone che magari in questo momento stanno passando un momento difficile e hanno bisogno magari di voci che non si aspettavano che potessero cambiare. Quindi chiamare, chiamiamo tutti quanti, ci sono ancora almeno 7-8 persone che non hanno ancora chiamato e altri che non danno un resoconto, fatelo, è la nostra Chiesa, la nostra famiglia, è un modo per evangelizzare, è un modo per, se uno non lo fa perché ha delle difficoltà a farlo, appunto, c'è una difficoltà, apri il tuo cuore, inizia con le persone che già conosci, supera il tuo blocco interiore, comincia ad aprire la tua volontà a Dio. Amen? Amen. Andiamo con il titolo, la differenza sta nella venuta di Gesù nella nostra vita. A dire la verità stavo scrivendo un altro titolo, ed è La storia si ripete. Perché il Signore mi ha fatto mettere insieme delle situazioni che sono simili e si sono ripetute a migliaia di anni. Amen? E finisce ancora oggi quando questo accade nella vita di una persona che conosce Gesù. Cioè di come lo Spirito Santo dal primo giorno dell'esistenza del mondo ha operato. E così via in altre situazioni, fino ad arrivare a oggi, per chi oggi o per chi un anno fa, due anni fa, ha conosciuto Gesù, ha ricevuto lo Spirito Santo, lì abbiamo visto la stessa cosa di quando Dio parla e dice sia la luce, sia il cielo, facciamo l'uomo. Cioè quando Dio parla e realizza attraverso lo Spirito Santo, lì è la stessa cosa che succede dentro di noi. Amen? Quindi ancora oggi, quando noi parliamo a qualcuno, questo Spirito Santo fa la stessa cosa che ha fatto in ubbidienza al Dio Padre quando ha detto sia la luce. Amen? Quindi la nostra principale ricerca deve essere quella di conoscere il Signore e le sue vie. che sia chiaro, dobbiamo ogni giorno cercare il Signore, le sue vie e soprattutto le sue direttive man mano che cresciamo. Non possiamo fermarci. Ah io so, mi sono battezzato. No, bisogna ogni giorno cercare il Signore. Amen? È una sua volontà. Non è una richiesta. E proprio l'ha fatto in modo che sia una necessità, un bisogno. Ecco perché ogni giorno noi dobbiamo fare questo. Se lo conosciamo, non possiamo fare a meno di amarlo. Quindi la gente che non ama Gesù e le cose di Gesù, uguale non lo conosce bene. Amen? Quindi quando noi conosciamo Gesù, leggiamo, preghiamo, viviamo di queste esperienze, anche di comunione, di telefonata. È lì che tu cominci a vedere l'amore di Dio. L'amore di Dio mi ha detto di fare una cosa per dimostrare l'amore a quella persona. E quando lo fai, poi ti commuovi perché dici, Signore, ha fatto bene pure a me. E allora capisci che Dio ha sempre ragione. Amen? Dio fa sempre le cose perché noi possiamo essere coinvolti piacevolmente e rassicurati. Gesù ci rassicura. Tanta gente vuole delle certezze. Ma la vera certezza è Gesù. Se non abbiamo questa certezza, noi siamo come un fiume senza argini. Vedete quando l'acqua sale e supera gli argini, dove va? Fa danno, va da tutte le parti. Vada in ogni direzione, di su, giù, a destra, a sinistra, mentre quando c'è l'argine viene canalizzato. E noi siamo canalizzati nell'opera di Dio. Non aver paura. Ti ha portato qua il Signore? Ti ha messo due sponde per portarti fino qui. Ti riempirà, ti benedirà e ti spingerà dove Lui vuole, sempre guidato dalla Sua volontà. E a quel punto non hai paura. Segui il fiume di Dio. Amen? Anche la Sua creazione è riflesso della Sua natura. Qualcuno, sai, dice, io vedo Dio nella natura. È vero. Perché la natura è equilibrata. La natura, vedete, anche quando l'uomo cerca di rovinare, dopo un po' la natura riesce a rimettere a posto le cose. E quando anche gli scienziati dicono questo, io non vedo una casualità. Vedo proprio la mano di Dio che guarisce il cuore del mondo. E quando noi incontriamo Gesù, io vedo persone arrabbiate con la vita, ferite dalle persone più care, che quando conoscono Gesù, il suo cuore viene risanato. Io posso capire che alcuni hanno vissuto in prigione, in cattività, nelle loro famiglie, nel loro passato, quello che gli è successo, quella è la prigionia, no? Tutto quello che hai fatto ti ha segnato, ti ha imbruttito, ti ha limitato nella mentalità, nell'atteggiamento. Ma quando incontri Gesù, queste barriere, queste sbarre di ferro nella nostra mente si aprono. E alcune volte la religiosità, io sono, come dire, passionale nel difendere, non Gesù perché Gesù non ha bisogno di essere difeso, ma difendere la verità nella vita delle persone che vogliono avere fede. Tutte quelle persone che vogliono avere fede e sono bloccate dalle religioni, io sono arrabbiato perché non riesco tante volte a fargli capire come può la tua vita essere bloccata dalle regole umane che Dio non ha chiesto. Gesù toglie i pesi, non li mette. E venire in chiesa a leggere la Bibbia non è un peso, è un'informazione, in fondo tu devi leggere tutto. Prendi una medicina, devi leggere il bugiardino. Prendi un elettrodomestico, devi leggere il libretto di istruzione. Vuoi realizzare qualcosa nella vita? Devi andare a scuola e devi leggere i libri, no? Vuoi fare qualcosa di tuo personale, anche un hobby? Devi prendere i libri specifici, materiali e leggerlo. Quindi non deve essere... Sapete per chi pesa leggere? Per chi non scopre chi è Gesù. Io ho conosciuto una persona che aveva difficoltà a leggere perché non sapeva leggere, tanti anni fa. E quindi leggeva Gesù vuole che tu... Ma aveva fame di Dio che non mollava e rimaneva lì a leggere. E capiva anche poco, ma quel poco era quello che gli serviva. E nel tempo è diventato una persona che legge molto meglio e spiega lui adesso queste cose agli altri. E io lì vedo l'amore di Dio. Di come prende... C'è quel versetto dove dice che Dio ha preso le persone che il mondo ha scartato. Che ha preso in giro. Che dice non vale nulla. Lui prende queste persone e mette dentro l'autorità. E l'autorità e la fede non viene dalla sapienza. Viene dal cuore sincero verso Dio. Viene dall'ubbidire all'ABC della parola di Dio. Amen? Quindi non pensare che se tu hai letto tanto pensi di sapere. Anzi, quelle persone che perdono l'umiltà, fanno danni. Obbligano. Obbligano in casa. Obbligano gli amici. È un Dio pesante. Invece noi dobbiamo parlare dell'amore di Dio. Di come le persone vengono tirate fuori da questo. Sapete come si toglie una persona dalla dipendenza dell'alcol? Delle sigarette? Della droga? Del gioco d'azzardo? Dalla pornografia? Mostrandogli l'amore nostro che è l'amore di Dio. È l'amore che porta a casa i figli. Non è la riprensione. Non è la minaccia. È l'amore. Perché il diavolo nel momento difficile non potrà dire non andare a casa perché i tuoi ti hanno ricordi l'ultima minaccia che ti hanno fatto. E invece quando tu gli dici io ti amo lo stesso, anche se ora te ne vai, il diavolo non potrà mai sussurrarti la condanna. Ma Gesù ti ricorderà, ricorda che tuo padre e tua madre ti hanno amato e ti stanno aspettando nonostante quello che hai fatto. È l'amore di Dio che ci ha convinti che lui è buono. Dio non ci ha condannati, ci ha salvati. Quando ci sentiamo accusati, quando abbiamo qualcosa che non va e non vogliamo mettere a posto, ma se noi glielo diamo finisce lì. Finisce il giudizio e senti l'amore, senti la libertà. Ecco perché più conosciamo la parola di Dio, Dio stesso, e più sentiamo il suo amore. Anche perché l'uomo nonostante il peccato che ha rovinato tutto, è stato creato ad immagine di Dio. Sempre in Genesi dove dice, e sia la luce, dopo un po', il sesto giorno, dice, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Cioè, ti rendi conto? Dio padre, Dio figlio, lo spirito santo, si siedono a tavolino, a tre gambe. E cosa dicono? Sai, in tutte queste belle cose che abbiamo fatto, ci voglio mettere qualcuno che ci assomiglia, e lo chiameremo uomo. E sei nato tu. Sei il frutto dell'amore di Dio. Poi la gente dice, allora come mai c'è tutto questo? Questo è un altro discorso. È il peccato che ci ha condizionato a fare sempre il nostro egoismo, il nostro interesse. Se noi conoscessimo veramente Dio, noi non abbiamo bisogno di sotterfugi, escabotage, vie parallele. Noi abbiamo una via unica, ed è Gesù. E si ha fatto il mondo. Ma figurati se non può governare la nostra vita. Da dove viene la paura di arrendersi a Gesù? Da dove viene il fatto di dover perdonare a priori 100%? Senza riserva. Perché divi, eh ma chissà, questo è un gioco diabolico. Ma chissà perché, se lo fai, cosa succederà? Questo è il Satana. È il diavolo. Veramente Dio ha detto di perdonare? Ma veramente c'è da guadagnare se segui di Dio? Ma veramente devi fare come Dio dice? Sì! Perché fuori da quello che Dio dice, è una rovina continua. Non c'è futuro. Non c'è gioia. E non è una croce. Non è un segno di croce. Non è un santo o una madonna. È l'ubbidienza alla parola di Dio. Amen? Sapete che ogni, come dire, elemento, come si dice, stellare, ogni componente della stratosfera, ogni satellite, ogni pianeta, l'universo, è mantenuto e sostenuto nella stessa posizione perfetta dalla parola di Dio? Se non ci fosse la parola di Dio, ci sarebbe il caos nel cielo e i pianeti si scontrerebbero. Tutto rimane così. sono andati su Marte. Stanno spendendo miliardi per trovare quella vita. Non la troveranno mai. Non la troveranno mai. Perché Gesù ha messo la vita qui sulla Terra. e Gesù è venuto, non su Marte, è venuto sulla Terra e ha portato il suo regno. Ecco perché noi stiamo sperimentando questa meraviglia. Perché c'è il regno di Dio. Il mondo è bello, ma senza il regno di Dio è brutto. Le persone sono belle, ma se non conoscono Dio, sono brutte. Le tenebre sono su di loro. Il cuore ferito è dentro di loro. Le aspettative deluse, i sogni infranti, i limiti umani. Dimmi una cosa positiva senza Dio. La bellezza. Quanto dura! Non è per l'eternità. Ma tutto ciò che Dio ci dà è per l'eternità. Quindi tu non sei seduto su una sedia, ma sulla navicella spaziale per il regno di Dio. Allaccia le cinture che stiamo andando verso di Lui. Amen? Immagina! No? Ogni cosa gli appartiene a Dio. Dio metterà la Terra sotto i piedi del Signore e calpesterà ogni persona, ogni demone che si ribella a Lui. Il nemico sarà sotto i piedi del Signore. Amen? Noi siamo con Lui, quindi siamo sopra i piedi. Amen? E quindi quando vediamo una persona, se guardiamo con gli occhi di Dio, noi vediamo Dio. Vediamo la creatura che Dio ha creato. Amen? Quando noi non vediamo nella persona di fronte la creatura di Dio, l'uomo e la donna di Dio, è perché noi non stiamo guardando con gli occhi di Dio. Quando noi vediamo i difetti, quando noi tiriamo, ecco, vedete di nuovo il mormorare, il giudicare, il criticare, viene da un cuore ferito che non si è reso a Gesù, che invece di vedere l'opera di Dio, vede i difetti dell'uomo, ma tutti ce li hanno. e sapete, chi guarda la pagliuzza nell'occhio dell'altro, non riesce, non riesce a vedere la trave nella sua. Non è che dici, sai, tu hai visto una trave così, ma anche tu c'hai una pagliuzza. No, no, chi vede la pagliuzza c'ha una trave, lo dice il Signore, parola di Dio, mi amo, grazie a Dio. La conoscenza che otteniamo non è solo fine a se stessa, per un nostro vantaggio, ma è soprattutto per renderci efficienti, capaci di portare avanti l'opera di Dio. Quello che noi crediamo di Lui, i benefici che abbiamo di Lui, la conoscenza che abbiamo di Dio, non è solo per portare a casa una cosa personale, una guarigione, una benedizione, che va anche bene, ma per essere capaci di portare a termine il compito che Dio ci ha dato. Dio non ci ha chiamato solo a salvarci, siamo già salvi perché crediamo, giusto? Quindi, o serviamo o ce la diamo. Se Dio, dopo la salvezza, ci dà un tempo per stare qui, non è fesso, non è come il vaccino che è pronto, ma bisogna trovare il tempo per farlo, no? È che Lui ci lascia sulla terra perché dobbiamo fare qualcosa per Lui. E ognuno di noi ha un compito, amén? Le persone che puoi raggiungere tu non posso raggiungere io. il modo che hai di vedere tu le cose di Dio è diverso dal mio e quindi anche il tuo modo è utile per arrivare a qualcuno che io non potrei mai arrivare. Amén? non è solo un fatto di modo ma è un fatto di quantità. io quante persone posso fare? Dieci? Cento? Ma non mille. Ma dieci persone che fanno cento facciamo mille. Amén? E questo è fare quello che Dio ci ha messo davanti. Cioè non siamo operai inutili. Non esiste la pensione nel Regno dei Cieli. Amén? Non esiste la pensione nel Regno dei Cieli. Qualcuno? Amén. Volevo la pensione spirituale. Non c'è. Con Dio si lavora sempre perché starei sempre bene perché non avrai mai cali di zucchero di età. Dio ci ringiovanisce ci dà sempre più forza. Quindi il suo piano è quello di benedirci anche perché più luce abbiamo più conosciamo Lui e più luce riusciamo a dare ad altri. quando io vedo qualcuno che parla di Gesù e sa dare a Gesù sapete perché lo può dare? Perché ce l'ha. Sa esattamente cosa dire. Sa esattamente dove portare la persona. Non basta dire Gesù ti ama. Lo sanno. Ma non l'hanno mai visto. Non l'hanno mai gustato. Non gliel'hanno mai dimostrato. Oppure Dio guarisce. Non l'hanno mai visto. Quindi se tu vai da una persona e gli dici che Dio guarisce dimostragli che Dio guarisce. Come? Imponi le mani nel nome di Gesù e guarisci. Quella persona è ossessionata oppressa legata da qualcosa di demoniaco liberala nel nome di Gesù. Perché c'è scritto di scacciare demoni. C'è un pericolo di bere del veleno di essere morsi da un serpente attaccati dal virus incominciamo a pensare ad avere che la fede di Dio ci protegge. Amen? Che neutralizza lo spirito della morte e della malattia. Dobbiamo dirlo. Dobbiamo crederci. E grazie a Dio siamo tutti qua. Basterebbe questo motivo stasera per metterci in ginocchio e cominciare a lodare Dio perché nessuno è stato perso né di noi né dei nostri. Quindi è un onore e vogliamo veramente ringraziare Dio per questo perché tante volte diamo tutto per scontato. Ci diamo da fare nelle cose e dimentichiamo quanta gente è morta quanta gente sta morendo quanta gente anche giovane che sta in ottima salute e allora cominciamo veramente a dare credito valore al potere della preghiera nel nome di Gesù. Non la nostra preghiera potente ma noi preghiamo perché Dio ha detto di farlo ed è potente quello che ci ha detto di farlo. Ha detto voi se adoperate lo strumento della preghiera nel mio nome voi sarete potenti sopra ogni situazione è la preghiera in Cristo che ci rende potenti è la fede in Lui che quando preghiamo ci permette di ricevere e questa è la cosa più bella quanta gente ha paura di morire di ammalarci di non farcela di non uscire io non so quanti di voi stanno chiamando Sergio all'ospedale sono più di due mesi due mesi e mezzo da solo non vede nessuno sta facendo riabilitazione e quando lo senti non dice mai non piange mai dice che ha avuto dei momenti difficili ma ringrazio ogni volta mi dice pastore io ti ringrazio perché non so come avrei fatto senza i tuoi insegnamenti a parlare al problema a superare i momenti difficili ha avuto anche dei momenti dove degli infermieri uno particolare lo ha abbandonato nel bagno non poteva muoversi ed è rimasto la due ore non per giudicare la persona perché ci sono queste ma lui non si è scoraggiato è un nostro fratello non possiamo andarlo a trovare ma prega per lui vince per lui perché domani può toccare a te e siamo una chiesa ma non perché deve toccare a te ma perché lo ami allora fai questa telefonata questo perché lo sappiamo ma quanti fratelli e sorelle non vediamo e non sappiamo cosa abbiamo non abbiamo la sfera magica dobbiamo prendere ecco perché se facciamo quello che Dio ci ha detto di fare scopriremo e benediremo tante persone amè allora chi si lamenta vuol dire che non sta guardando a Dio cerca veramente prova a pensare se noi fossimo stati al suo posto come avremmo reagito come ci saremmo disperati forse qualcuno si sarebbe spento solo dalla solitudine quindi mi raccomando fede dichiara dove arrivi tu porta luce amè non guardare le circostanze non sentire i sintomi continua ad andare avanti sembra facile dire queste cose ma chi vive ha bisogno di queste parole ha bisogno di mettere in pratica queste cose in prima corinzi 2 10 Dio parla Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo spirito perché lo spirito investica ogni cosa anche le profondità di Dio se noi abbiamo lo spirito santo noi riusciamo a comprendere come stanno andando le cose quando arriva lo spirito di Dio arriva un cambiamento arriva una cosa soprannaturale però dobbiamo applicarlo perché questa chiesa sa benissimo perché tra fede spirito santo è guarigione del cuore e anche guarigione questa chiesa ne sa e può insegnare ad altri ma quando arriva il problema molti muoiono senza bere l'acqua della parola di Dio perché la devi andare a prendere a quel punto e la devi applicare quello che hai studiato quello che Dio ti ha detto quello che Dio ti ha insegnato e allora è il momento che lo devi andare a prendere ed applicare quindi mi raccomando se abbiamo lo spirito santo cercheremo sempre di più la sua presenza e cercheremo di portare più frutto lo spirito santo non è una pila da tenere in tasca lo spirito santo è una pila che va inserita in un contesto e deve fruttare se noi non fruttiamo quello che Dio ha messo dentro di noi non stiamo portando avanti lo scopo di Dio stiamo pensando solo a noi stessi quanta gente intorno a noi sta soffrendo e sta morendo perché noi non stiamo dando la rivelazione che Dio ha dato io posso capire che qualcuno parla a qualcuno e dice ma non vuole credere va bene ma ci sono altre quanti miliardi ci stanno sulla terra no? quante centinaia di migliaia di abitanti ci sono nel tuo paese non è che noi uno dice no e ci blocchiamo dobbiamo sempre pensare di andare al prossimo di dare al prossimo forse è il momento anche di accendere in casa propria i tuoi figli i tuoi familiari parlano di Gesù credono in Gesù leggono come affrontano i problemi anche se non sai se leggono o pregono cerca di vedere come affronta il problema tua moglie il tuo marito i tuoi figli i tuoi genitori hanno fede gliela devi dare tu glielo devi spiegare tu non far finta di non vederlo perché domani se succede qualcosa è difficile in un giorno parlargli dargli la fede iniziare a smuovere le cose Dio ricordatevi arriva sempre in tempo ma se noi non facciamo nel giusto tempo quello che Dio ci dice può essere tardi la conoscenza senza le opere produce arroganza è contrario alla natura di Dio quindi conoscere ma con arroganza cosa fa? rovina porta orgoglio rovina l'opera di Dio è il contrario di quello che Dio dice invece la conoscenza con le opere porta umiltà noi dobbiamo servire perché sappiamo e questo cosa va? produce umiltà quando tu chiami prendi il telefono e chiami quel fratello o la sorella e lo fai perché l'ha detto Gesù e lo fai perché l'ha detto è stato detto in chiesa per umiltà lo fai per orgoglio non lo fai perché lo devo fare? sarangiassero non sono capaci? invece vai per umiltà signore ok mi hai detto come va? te la vedi tu e soprattutto sapete perché? perché noi abbiamo una conoscenza limitata noi di Dio anche se leggiamo conosciamo una parte la sapienza la conoscenza è sempre una parte una parola ecco perché Dio ha fatto in modo che pezzo dopo pezzo perché vuole farci crescere dobbiamo dare il giusto peso e poi abbiamo bisogno di Lui e abbiamo bisogno della comunione in esodo 16.4 l'Eterno disse a Mosè ecco io farò piovere per voi del pane del cielo e il popolo uscirà e raccoglierà ogni giorno la provvista del giorno perché io voglio mettere alla prova per vedere se camminerà o no secondo la mia legge vedete? mette fa scendere il pane un po' ogni giorno e ti specifica per mettere alla prova se anche in questo tu obbedirai la mia legge e non solo come fa a sapere quando disubbidiva? perché tutto il pane che prendevano in più il giorno dopo puzzava quindi è inutile fare di più per domani perché oggi lo devi fare e poi se sai che ogni giorno c'è qualcosa per te prendi quello che ti serve oggi fai quello che ti serve oggi ubbidisci a quello che ti ha detto oggi domani non lo sai cosa ti derà Dio vuole la nostra obbedienza l'uomo e la donna che non obbedisce a Dio sta lottando contro se stesso Dio non mette pesi avete notato che chi disubbidisce è sempre in difficoltà è sempre sotto stress è sempre perché poi questo cosa porta? male essere male umore stato d'animo sbagliato perché sei stressato fidati di Dio presenta a Dio come dice per ogni tua preghiera presenta a Dio non essere in ansietà per alcuna cosa quindi quando hai un pensiero d'ansia vuol dire che stai mettendo da parte Dio e stai gestendo la cosa tu allora cosa fai? prendi la cosa e la dai a Dio e ansia tua io non mi disinteresso prego mi darai tu la risposta metterai tu a posta amen? chiaramente è tutto un contesto ma così funziona è scritto che tutto copera il bene di quelli che amano Dio per portare a termine l'opera che Dio gli ha dato per ogni portare a compimento allora anche a Sergio lui stesso so che tutto copera il bene di quelli che amano Dio e quindi sto capendo sto facendo delle cose che neanche fuori di qua facevo si sta riprogrammando tutto certo non è che Dio fa così con tutti è successo questo si serve di questo per fargli capire delle cose succedeva un'altra cosa si serve di quello ok? però sa che ne uscirai vittorioso è più forte di prima e potrà parlare alle persone che hanno subito queste cose e che saprà dire delle cose che solo chi le ha passate le conosce ma quindi però è sapere che in questa battaglia sei a braccetto con Dio non ha non ha dubbi è certo non molla quindi per tutti coloro che vogliono seguire Dio devono raccogliere ogni giorno il pane dal cielo ogni giorno vi chiedo attenzione ogni giorno leggete almeno un capitolo almeno un capitolo al giorno adesso che c'è questa applicazione prima la parola e la preghiera prima questo anche se il libro ti può piacere c'è un filo logico ma prima questo e vedi cosa capisci tu poi vai a leggere un capitolo del libro una pagina ma anche lì cominci a leggere e vedrai che tante volte Dio ti darà delle spiegazioni di uno e dell'altro attraverso quello che leggi ma è un tempo ma come detto prima la conoscenza senza l'operare senza l'opera porta orgoglio quindi quando leggi è perché Dio vuole farti fare qualcosa no? non siamo qua per un prurito d'ascolto giusto? siamo qua per portare a casa gli insegnamenti per applicarli nella nostra vita il nostro primo pensiero appena svegli è quello di cercarlo di riceverlo con una fresca rivelazione per tutta la giornata come ti alzi la mattina signore oggi vivo con te cosa vuoi dirmi? cosa mi farai fare? so che tu mi proteggerai so che tu sei con me e quindi fai una preghiera leggi un po' e inizia la giornata e sai che hai messo l'assicurazione di Dio sulla tua vita infatti quando Gesù ha risposto al diavolo sta scritto l'uomo non vive di solo pane ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio da dove esce? quindi esce da da Dio sembra poca cosa sembra una bella frase ma Dio ogni giorno dà una parola per ognuno di noi e se tu non l'hai letta stamattina o non la leggi domani tu sarai debole spiritualmente tanta gente è debole spiritualmente perché non si nutre della parola di Dio non fa tesoro allora leggi ogni giorno perché domani non sai se vivi oggi vivi quindi gustati la parola di Dio la parola di Dio è latte e miele per il nostro palato è qualcosa che ci fa bene la parola è guarigione è vita porta intelligenza porta sapienza porta discernimento porta autorità quante cose fa la parola di Dio quindi rendiamo grazie a Dio per la sua parola ma se noi non avessimo la parola qua ognuno la penserebbe in un modo diverso invece quando dico una cosa che tu riconosci che l'hai letta e ti viene da Dio tutti quanti diciamo Amen insieme quindi prova a sentire l'Amen insieme vuol dire che altri hanno condiviso sono passati da quel versetto e hanno sperimentato che è così quindi quando senti Amen in un solo suono ti gasa ti fa sentire tutto il popolo è d'accordo su questo abbiamo sentito lo stesso messaggio Amen Amen In numero 16 per vie generali possiamo vedere come Mosè durante un flagello che ha colpito la nazione nell'accampamento di Israele per colpa di Core che era un ribelle ha fatto delle cose che non doveva fare sapete cosa ha fatto Mosè diede delle direttive ad Aronne di prendere l'incenso e girare per l'accampamento affinché venisse come dire separato allontanato il flagello e condannati chi stavano lottando contro il popolo di Dio e in il salmo Davide specifica mi sembra salmo 141 142 che la preghiera è l'incenso per Dio quindi vedete come nella parola ci fa anche capire che quando noi iniziamo a pregare addirittura possiamo combattere un flagello quindi ora come ora che addirittura abbiamo questo coronavirus che sta uccidendo milioni di persone che sta condannando la schiavitù di tutto il mondo bloccando il mercato il lavoro le finanze la salute la famiglia la libertà non possiamo stare qui fermi ad aspettare ma incominciamo ad ammettere l'incenso in questa situazione cioè a pregare affinché Dio allontani da noi e da questa nazione il flagello cominciamo a riprendere in mano la preghiera su questa situazione amè quello che diciamo quello che facciamo poi è lui che lo fa non pensare che tu adopri la tua parola combatte il virus no la preghiera che onora Dio la preghiera che apre le acque da dove possiamo passare no quella preghiera che ci rende salve grazie a tutti Grazie. Ok. Stavo dicendo come la preghiera e come il sangue dell'agnello messo sull'architrave non permise allo spirito della morte di rientrare. E entrava sulla città ma di tutte le case dove non entrava nelle case? Nelle case di coloro che avevano condiviso l'agnello. Da lì nacque la Pasqua. Abbiamo fatto il canto l'agnello è vivo. Ma non dimentichiamo che l'agnello è Gesù. Gesù è stato crocifisso, ucciso, sacrificato come un agnello. Perché per chiedere perdono ci voleva un agnello senza macchia e senza difetto. Ok. Ma era un agnello animale mentre Gesù si è sacrificato come agnello umano prendendo il nostro posto. Ecco perché lui è morto ma è risuscitato e allora noi adesso cantiamo l'agnello è vivo. Gesù è vivo. Quindi noi siamo un popolo di persone vive dentro. Siamo seduti qua ma dentro abbiamo il fuoco dello Spirito Santo, abbiamo l'unzione di Dio, abbiamo la parola che è una spada che ci fa essere sempre pronti per ogni battaglia. Non c'è battaglia che noi non possiamo affrontare, amèn? Non c'è battaglia che ci fa paura, amèn? E poi non solo da soli ma anche lo stare insieme ci rende ancora più forte. Non sottovalutare. Devi far parte del corpo di Cristo. No? Quando si prende il pane e il corpo di Cristo. Dov'è il corpo di Cristo? Siamo noi uniti che forma il corpo di Cristo. Se tu sei separato, se tu non condividi la parola di Dio, non sei nel corpo di Cristo, ma lo decidi tu di essere fuori o dentro, amèn? Quindi abbiamo visto come Davide stava dicendo che la sua preghiera come incenso venga, salga a te. Il profumo dell'incenso va sempre in alto, no? Quindi quando noi preghiamo arriva a lui. In Efesini 2.9 dice Non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Vedete? Ritorniamo al punto di inizio. Tutto quello che noi facciamo non deve essere solo finalizzato a noi stessi, ma Dio ci ha preparato delle opere da compiere. Dio alla persona a fianco, tu hai delle opere da compiere per Gesù. Avete notato che tutto porta Gesù? Avete visto che tutto ritorna a Gesù? Che tutto si muove nel nome di Gesù? Perché tutto è stato fatto in modo che andassero Gesù. Anche chi? Geova. O Geova. Non possono andare a Geova se non passano da Gesù. Non esiste. Nessuno va al Padre se non attraverso il Figlio. Amèn? Il Padre ha mandato il Figlio a creare un passaggio, una porta per Lui. Quindi chi non crede in Gesù non può arrivare. Chi non ascolta, non mette in pratica la parola di Dio, non arriva a Gesù. Non arriva a Dio. Amèn? Che sia chiaro. Se non mettiamo questo proposito come punto centrale della nostra vita, non stiamo costruendo sul fondamento che Dio voleva. Tutto finalizzato a Dio. Noi per Gesù. Quello che facciamo per Gesù. I frutti, i risultati, le guarigioni. Gloria per Gesù. Amèn? Nessuno si può prendere il merito. Ma è anche vero che noi possiamo dire di avere fede. Ma se non facciamo le opere, la fede è morta. Dobbiamo fare qualcosa. Amèn? Devi fare qualcosa. Devi incominciare. Non pensare di fare cosa farò. Incomincia da casa tua. Incomincia dalla tua vita. Vi ricordate domenica scorsa o l'altra? Se hai le croste, la piaga, una cicatrice, devi guarire. Se no, non si può entrare nel Tempio di Dio a celebrare. Non puoi nemmeno aiutare il prossimo, perché se ti fa male, come fai? Ma Dio ha detto, io mi prendo cura di voi. Io voglio curare il vostro cuore. Dobbiamo sempre rimanere sul fondamento di Dio, perché è la cosa più importante. Dobbiamo rimanere come in un fiume, il fiume della vita. Noi non dobbiamo prendere gli affluenti secondari. Noi dobbiamo rimanere sul fiume, amèn? Noi potremmo essere una goccia, ma quella goccia deve stare nel fiume. E questo vuol dire stare insieme ai fratelli, alle sorelle, andare dove la Chiesa va. Non esiste io faccio da solo. Perché Dio ha detto, tu devi fare quello che dico io, devi stare nel corpo di Cristo, devi essere come gli altri. La goccia, quando va nel fiume, la riconosci? Vi ricordate la visione, l'insegnamento sul purè di patate e il sacco di patate? E tante volte, nella famiglia o nella Chiesa, vogliamo dire che siamo tutti insieme, sì, nel sacco, ma le patate sono separate. Ma la visione di Dio è un purè, dove tutto è mischiato, non c'è più né Dio né mio, ma c'è solamente Dio, che è il corpo di Cristo, amèn? Quindi noi, anche se qualcuno la pensa diversamente, è quello che pensa a Dio di quello che noi facciamo è importante, amèn? Quindi se tu fai la volontà di Dio, tu sei nel purè, sei nel fiume, e allora sei benedetto per quello. Non fare le cose per piacere agli altri, falle per piacere a Dio. E se gli altri non l'apprezzano, non ti preoccupare, tu non devi fare per sentirti dire grazie da qualcuno, tu devi farlo perché Dio te lo dice, allora lo farai sempre, sarai sempre grato e andrà sempre bene. Amèn? Alleluia. Non dimentichiamo che lo Spirito di Dio, come all'inizio, vi ricordate quando dice, alleggiava sulle acque, si mosse, si muoveva, lo Spirito Santo si muove sempre. E cosa disse Dio? Sia la luce. E la luce si è formata. La luce è la verità di Dio. E poi ha fatto tante altre cose. Ha aperto le acque, ha fatto asciugare e formare la terra, ha formato le stelle nel cielo, il sole, no? Notate che la luce non è arrivata al quarto giorno quando è arrivato il sole e le stelle, ma è arrivato il primo giorno. Quindi era una luce non fatta dal sole, ma era la luce di Dio. Adesso noi la luce la vediamo attraverso il sole, giusto? Ma se andiamo a leggere, tutto quello che è stato fatto nel cielo è stato fatto il quarto giorno. Quindi che luce era il primo giorno? Quando Dio parla, crea le cose che tu non ti aspetti. Noi dobbiamo vivere secondo quello che Dio dice, allora tu vedrai le cose di Dio. Non vivere per emozioni, non vivere per quello che dicono gli altri, vivi per quello che Dio dice. Non sarai deluso. La gente è troppo delusa, perché sta ascoltando la religione, perché guarda Gesù ma si aspetta che l'uomo faccia qualcosa, smettila, guarda Gesù. Incomincia a essere tu che fai qualcosa per gli altri. E quando qualcuno che vede Gesù, vive una vita con Gesù, fa qualcosa per gli altri, fa qualcosa di sopranaturale, fa qualcosa che dura per sempre, fa qualcosa che parlerà di Dio, amè? E questa è la cosa che più ci benedice, più ci convince. Come dice in Giovanni, prima Giovanni 1,7, la prima lettera di Giovanni, ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Cristo sta mettendo insieme il sangue con la luce, la verità ti purifica. E come fai ad andare d'accordo con tutti? È possibile andare d'accordo con tutti? Onesto? Ha detto no. È vero. Ma possiamo renderlo possibile? Quando? Quando? Camminiamo nella luce. Amen? Allora è possibile. Quindi quando c'è qualcuno che non crea comunione, dove sta camminando? Nel buio. Amen? Allora la luce. Cerchiamo quella luce. E Dio disse, sia la luce. E lo Spirito Santo illuminò l'universo. E poi le acque, separò le acque, e poi fece ritiro alle acque e formò la terra, e poi fece tutte le costellazioni, i pianeti, il sole. Bellissimo. Quando Dio parla, quando lo Spirito Santo si muove, è qualcosa che comincia a toccare alla nostra vita, no? Quindi non dobbiamo mai pensare a un cammino solitario, ma a una comunione fraterna con Gesù. Quando abbiamo visto che lo Spirito si muove, crea sempre qualcosa di nuovo. Quindi quando noi preghiamo, noi siamo gli stessi, il locale è lo stesso, ma quando preghiamo e arriva lo Spirito Santo, le cose non saranno mai più le stesse. Sempre ci sarà qualcosa di nuovo. Tutta l'opera di Dio, tutta opera per l'opera dello Spirito Santo, per l'opera di Dio. In un certo senso, possiamo vedere che ciò che è accaduto all'epoca è successo anche nel giorno in cui Gesù è venuto a vivere, a nascere sulla Terra. E qual era il segno? Che era nato, qualcuno di importante? Una stella. E perché è la stella? Perché era luminosa. Una luce a forma di stella è arrivata in un punto dove c'era Gesù. lo Spirito Santo ha mandato Gesù sulla Terra e ha creato il regno di Dio. E fu luce. E fu la luce in mezzo a noi. Ecco perché se noi camminiamo con Gesù, che è la luce, noi siamo luce. Noi portiamo avanti quella luce che gli altri non hanno. Quando tu arrivi a casa di qualcuno, nella vita di qualcuno che ha un problema, e tu incominci, solo che arrivi e incominci a pregare, e cominci a parlare di Gesù, la tua luce illumina quella persona e quella persona viene coinvolta da quella luce. E quella luce è la verità. E quella verità fa sì che il sangue dell'agnello lo purificherà da ogni peccato. Perché la luce serve per purificarci dal peccato. Perché cos'è che ci tiene nel buio? Il peccato, la disobbedienza. Vedete? Si ritorna sempre lì. Quindi non continuiamo, ma cerchiamo veramente di applicare quello che il Signore vuole fare. Ogni forma di vita scaturisce dallo Spirito di Dio. E noi avremo una vera vita soltanto quando impareremo a muoverci con Lui. Spirito Santo. Facciamo i canti. Quando pregate il lingue... Io voglio sentirvi, voglio ricordarvi. Pregate il lingue. Pregate con intelligenza, ma poi smettete di pregare con intelligenza e incominciate a pregare in lingue. Io sento poche persone che parlano in lingue e soprattutto non gli danno una spiegazione, non danno un sentore. Vi faccio l'esempio. Io adesso sto parlando con una persona, con Serena. pregare e parlare con Dio, giusto? Giusto? Quindi dirò Signore, voglio veramente bene, ti ringrazio per quello che stai a fare, per quello che mi dici, ho avuto un momento, gli dico tutto. Oppure comincerò a lodarlo per quello che è, ma sempre con parole, no? Con spazi, pause, parlare, no? Non è che dici Signore perché tu quando mi vuoi bene, fai sempre quelle cose che non mi lasci mai da solo, se vedi tutto quello che mi serve, tu sei sempre buono, positivo, non sei mai negativo, apri il cielo, sconfiggi i demoni. Parli così? Parli normale. La cosa dice? Pregate con intelligenza e no? E pregate in lingue. Dice pregate così e pregate con me. Ok? Pregate in lingue, giusto? Allora, quando tu parli in lingue, prova a dargli, te lo dico così, non è che c'è scritto così, però prova a dargli un significato. Prova a immaginare che stai davanti a Gesù. Come gli parli in lingue? Prova. Già quando tu cominci a fare stai vedendo qualcosa, è come se stai finendo una frase e stai portando un'altra, però guarda a lui. Se stai vedendo una cosa e stai pregando per quello, vedrai che si evolve quella cosa, giusto? Dovete fare, ricordate, abbiamo fatto degli incontri, dovremmo ritornare a farle, perché voglio vedere a che punto siete arrivati. perché se voi non pregate in lingue, non vi aspettate nulla. E l'interpretazione l'avete mai data? Io vedo persone che hanno pregato a fianco a me in lingue per due o tre minuti e dicono, cosa hai visto? Niente. Cosa hai sentito? Niente. È un dono di Dio che ci porta a far vedere delle cose, a sentire delle cose e non senti nulla. ecco perché la nostra preghiera è come incenso che sale a Dio. Se Mosè ha detto di andare nell'accampamento e portare l'incenso, aveva uno scopo questa preghiera, questo modo di fare, no? Quindi quando tu preghi in lingue, devi comunque avere uno scopo. Se tu preghi con intelligenza, avrai uno scopo, una meta, no? Quando preghi in lingue, sparisce lo scopo? Fatevi queste domande. Non è detto che sia così, però io penso che ognuno potrà vedere cose diverse. Perché poi quando pregate con me, vi spingo a questo, qualcosa esce. E se tu devi pregare per una persona, cosa gli dici se non l'hai sentita? Se non la vedi? A me? Già l'hai semplice fatto, chiudi i tuoi occhi, immagina Gesù. Facciamo così, chiudiamo gli occhi adesso, lì come sei, comincia a parlare in lingue. Non ad alta voce, sottovoce, ma dagli una forma, come se tu stessi pensando una frase, perché dice che quando preghiamo in lingue, la mente rimane infruttuosa. Quindi chiudi i tuoi occhi, parla in lingue, e vai o in una direzione che decidi tu, o segui quello che ti passa per la mente. Ma fai che quella parola sia come parlare Gesù, no? dagli una pausa, riprendi, e se vedi qualcosa di brutto, sicuramente cambierà anche il tono, no? Se sarai gioioso, avrà un altro suono. Se entri in battaglia, ne avrà un altro ancora, ma ascoltalo, ascoltalo, non andare su col volume, concentrati, ascolta il tuo parlare in lingue. Amen? Perché se dice che parlerà lingue nuove, scacceranno demoni, vuol dire che è importante tanto quanto, Amen? All'ultimo mette pregare per gli ammalati guariranno, ma se lo mette al primo posto, al secondo posto, c'è un significato, c'è una volontà, Amen? È un dono di Dio, dagli un valore, dagli un'importanza, è un qualcosa che non avevi, che Dio ha dato. Amen. Apri pure i tuoi occhi, perché dice, pregate con intelligenza. Quando tu preghi, pensi la frase, apri la bocca, fai uscire il fiato, giusto? Se tu non fai uscire l'aria, non si sente niente. Quando preghi in lingue, se dice pregare con intelligenza e pregare in lingue, vuol dire che il modo di farlo è lo stesso, solo che uno è con intelligenza e l'altro è spirituale. E cosa vuol dire questo? Dice che la vostra mente rimane libera. Shara bara canta da sentere veri canta da sentere o shara bara canta da sentere cioè vi dico delle cose, ma il mio lingue non mi disturba. Cioè vi vedo, vi dico quello che posso fare, no, dopo. Perché questa cosa ci deve far capire che ci sdoppiamo, che va in un'altra direzione. Amén? E allora possiamo dare la possibilità a Dio di farci vedere delle cose. Quando dice che Dio illumini gli occhi della vostra mente, vuol dire che la nostra mente ha degli occhi e vi garantisco che parlare in lingue durante la preghiera si attivano. Amén? Quindi è importante. Poi devi provare, non pensare che Dio ti manderà chissà a fare. Comincia nel tuo piccolo a vedere, a sentire, come ti senti, perché è qualcosa che devi valutare tu. Io ti posso dare una direzione, ma ognuno vive la sua dimensione. Amén? Però, ecco, fatelo. Non fa male, è un dono di Dio e vi equipaggia. E siccome abbiamo detto che lo Spirito Santo è qualcosa di importante, e vado in conclusione, l'altro, no, e la storia si ripete, si ha la luce, arriva Gesù, una luce, lui ha la luce, una stella lo guida, poi se ne va Gesù e viene lo Spirito Santo. Come scende? Con le fiammelle. La luce sulle persone. Amén? Ancora una volta, quando arriva lo Spirito Santo, arriva sempre una luce. Quando una persona nasce di nuovo, riceve la luce di Gesù. Amén? E questa è la cosa più importante, che dobbiamo comprendere che lui fa sempre qualcosa, non è una cosa statica, è viva. Allora io ti voglio incoraggiare a vivere il cambiamento nella tua vita. Quando riceviamo Gesù, niente della vecchia vita deve rimanere come allora. Ok? Maledizioni, peccati, comportamenti, ferite, dolori, mentalità, devono essere cambiate. Perché adesso abbiamo un cuore nuovo, una mente rinnovata, uno Spirito nuovo, lo Spirito Santo a me, allora tutto ci è reso possibile. Io vi voglio incoraggiare a pensare che questa è l'opera che Dio vuole fare attraverso di noi. in Geremia 15, 19 dice, perciò così dice l'Eterno, se tu ritorni a me, io ti ristabilirò e tu starai davanti a me. Se tu separi il prezioso dal vile, tu sarai la mia bocca. Essi ritorneranno a te, ma tu non devi tornare a loro. Vedete, Dio sempre ci chiama a essere pronti a un cambiamento, pronti a predicare il Vangelo, ma non a fare compromessi. C'è gente che dice, ma io vado a parlare. Sapete quanti ragazzi e ragazze se ne sono andati dalla chiesa, perché sai cosa dicevano? No, ma pastore, io mi metto insieme, ma gli parlo di Cristo. Sono spariti. Perché? Perché non puoi andare a toccare qualcosa che Dio dice che noi dobbiamo mantenere lontano, avere il controllo. Amén? Le cose si fanno alla luce, alla presenza di Dio. Amén? Tutto il resto ci allontana. Quindi, come ho detto, noi dobbiamo stare nel fiume. Qualcuno vuole dare dei pareri, dei modi di fare che camminano a fianco. Ma uno è il fiume della vita, uno è la verità. Amén? Vediamo questi ultimi due versetti. Giovanni 1, dal versetto 1 al versetto 4 e chiudiamo. Nel principio era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio. Egli, la parola, era dal principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola. Senza di Lui nessuna delle cose è fatta, è stata fatta. in Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Questo versetto in Giovanni racchiude tutto quello che viene da Genesi, dalla venuta di Gesù Cristo a tutto quello che... E poi dice dal versetto 9 in poi, sempre capitolo 1, Egli la parola era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli la parola era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di Lui ma il mondo non l'ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto Egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio e quelli cioè che credono nel suo nome. Amen. Tutto questo inizia sia alla luce alla venuta di Gesù e chiunque crede nel suo nome non perché viene in chiesa ma crede Lui è luce riceve la luce e quindi è benedetto. Quindi la nostra vita deve può cambiare perché? Perché lo Spirito Santo viene su di noi. Ricordati noi parliamo dello Spirito Santo e come tale ci dobbiamo ricordare che ogni volta che lo Spirito Santo viene o nominiamo Lui è sempre in movimento quindi non c'è nulla nella tua vita che può rimanere come prima. Quindi adesso che noi preghiamo sulla parola e tu vuoi che lo Spirito Santo agisca allora devi comprendere che inizierà a cambiare dentro di te qualcosa. Ecco come dicevo chiudi i tuoi occhi alziamoci in piedi chiudi i tuoi occhi chiudi i tuoi occhi non pensare a nulla non farti distrarre più che non pensare a nulla pensa a Dio e comincia a pensare che mentre tu stai pregando e con i tuoi occhi cerca di immaginare Gesù che vai verso di Lui che lo vedi che ti predisponi a Lui lo Spirito inizierà a muoversi nella tua vita incomincerà a toccare la tua mente il tuo cuore il tuo stato d'animo non aver paura Dio ti ama Dio è amore Dio non accusa ricevi adesso la libertà la guarigione nel tuo cuore ricevi la rivelazione di Dio prova a immaginare non c'era nulla c'era lo Spirito che alleggiava sulle acque e Dio disse sia la luce e questa luce ora è arrivata a te con uno scopo di salvarti ma anche di adoperarti per espandere questa luce per arrivare al prossimo tu non hai bisogno di nessuno se non di Gesù della parola il verbo fatto carne tutte le cose sono state formate e create attraverso di Lui tutto quello di cui hai bisogno deve arrivare da Lui se sei stanco se hai dei pesi se hai dei dubbi avvicinati a Gesù e Lui si avvicinerà a te se c'è è un periodo che le cose non stanno cambiando non stanno andando come devono andare è perché probabilmente hai cominciato a prendere una scorciatoia ti sei trovato davanti a un bivio un giorno e da quel momento hai cominciato a sentirti più distaccato e le cose non stanno andando come volevi come dovevano andare allora torna al primo amore torna alla prima volta che ti è stato parlato di Dio sicuramente non te l'hanno presentato con un dubbio con un compromesso probabilmente o qualcosa non l'hai mai tolta completamente o sei ricaduto in qualcosa allora tu stai pregando stai aspettando ma le cose non cambiano e ti posso dire non cambieranno mai perché non c'è uno sconto non c'è una una deviazione Gesù vuole che tu gli dai quell'aspetto della tua vita e che togli quella debolezza quel peccato perché se no non gli appartieni lascia che lo Spirito Santo ti porti nel suo fiume non resistere seguilo sapete quando è venuto Gesù ma anche quando è venuta la Pentecoste lo Spirito Santo potremmo dire che tutto era come una massa lo stato era spirituale era in forme ognuno faceva quello che voleva non c'era una regola ma poi è arrivato Gesù e sia la luce e da lì ha cominciato a creare i tempi sapete dopo che ha detto che sia la luce allora è cominciato quando ha formato il firmamento delle stelle da lì è cominciato a creare la notte e il giorno quindi quando arriva la luce di Dio ti toglie da ti divide da quello che è buono da quello che non è buono da quello che è giusto da quello che è sbagliato e così anche quando è venuto lo Spirito Santo la Pentecoste queste persone erano nascoste impaurite in un solaio ma quando è arrivato lo Spirito Santo sono usciti all'aperto e sono andati a predicare il Vangelo opera dello Spirito Santo allora voglio pregare che adesso lo Spirito Santo inizia a muoversi sopra ognuno di noi anche nella vita di coloro che stanno ascoltando lì dove si trovano nell'ospedale a casa in ogni luogo lì che tu stai ascoltando tu possa sentire che lo Spirito Santo si muove secondo la parola che hai udito che la tua vita sia toccata dalla potenza di Dio dall'amore di Dio dalla grazia di Dio vieni Spirito Santo tocca ogni vita qui presente libera ogni persona qui presente dagli la forza di chiamare le cose con il giusto nome dagli la forza di alzarsi e di cominciare a vivere una nuova vita Spirito Santo porta guarigione nella vita dei fratelli e delle sorelle che stanno combattendo una qualsiasi malattia adesso riporta la tua gloria la tua presenza nella loro mente nel loro cuore nel loro corpo nel loro spirito adesso e nel nome di Gesù noi prendiamo autorità e leghiamo ogni principato potestà signoria e spirito maligno vi leghiamo nel nome di Gesù e vi allontaniamo da questa chiesa da ogni persona che sta ascoltando questo messaggio sia protetta adesso nel nome di Gesù Spirito di morte Spirito di malattia Spirito di fallimento noi ti allontaniamo adesso nel nome di Gesù Cristo Spirito di religiosità ti ordiniamo di lasciare la vita di ogni persona che sta ascoltando che possa vedere la luce così come tu hai detto sia la luce ti prego Signore Gesù come l'hai fatto con noi ti prego per quelle persone nuove deboli sia la luce quella luce della presenza del tuo amato figlio Gesù la presenza del sangue dell'agnello che purifica la loro vita allontana ogni inganno ogni opera del diavolo adesso nel nome di Gesù Cristo grazie Padre ti vogliamo benedire ti vogliamo riconoscere che senza di te non possiamo fare nulla grazie Signore vogliamo ringraziarti e benedirti vogliamo ringraziare coloro che ci hanno seguito da casa o dall'ospedale salutiamo i fratelli gli amici i conoscenti e vi benediciamo nel nome di Gesù Cristo vi diamo appuntamento a mercoledì alle ore 20 o domenica prossima nel frattempo se hai bisogno scrivi fai domande e noi ti daremo aiuto e sostegno nel nome santo di Gesù che Dio vi benedica pace a coloro che ci ascoltano da casa grazie a tutti